La fotografia mi dà la completezza, mi realizza. Io quando ho una macchina fotografica la sento parte di me, del mio stile di vita. Il cibo si trova, per fortuna c'è anche molta solidarietà. Quello di cui hanno più bisogno è la vicinanza con qualcuno e diventare reali, perché loro sono invisibili. Realizzare alcune attività o alcuni sogni era la chiave di tutto. Per Daniele per esempio era riuscire a esprimersi e esistere attraverso la fotografia, quindi adesso questo dono realizza proprio questo percorso. All'inizio la fotografia l'ho fatta per gioco e da lì è nata una passione, fotografia da strada, raccontare ciò che vivo per strada. Prima ero una classica persona che non aveva un obiettivo, adesso il mio obiettivo è basato in base alle fotografie che svolgo vivendo la strada, comunicando ciò che è realmente la strada e quindi mi fa sentire quasi un racconta storia. Il fotografo mette le mani, mette l'occhio, ma soprattutto mette il cuore. Quindi a chi va in mano e sicuramente a Daniele credo che sia un'opportunità ancora maggiore, perché chi vive la strada come la vive lui e sa che cosa significa, con un solo scatto si può rendere conto delle realtà che a volte magari ci spugano. Sono convinto che farà delle ottime cose.